Buu! Ma dove l'hai trovato? Ah, c'è un taglio, Pete. Ehi, lavoro coi professionisti. A proposito, controlla che l'audio funzioni. Non voglio un nuovo amarillo. Ma è una storia di due anni fa. E non mi doppio. Quello nuovo? Non mi piace. Ancora? Non ti stupire se dovremo rimpiazzarlo. Piano B. Apriamo, filmiamo l'interno. E poi parte l'intro. Come sempre, insomma. Però, di il nome del programma stavolta. Tranquillo. Stasera su Ergheitos, un altro posto del cazzo inutile. Felice? Deliziato. Siamo pronti? Cominciamo. Fatti da parte. È chiusa. Dopo di te. Allora perché? Siamo scesi all'inferno. Ti prepari mai? Cosa abbiamo? Casa schifosa? Rumori strani? Uh, è stregata? Che cazzo? Era un presentatore io. Sostituto, Pete. Sostituto. Cosa? Nulla. La storia, Andre? Una fattoria abbandonata, una famiglia scomparsa e forse un delitto. Il solito. Da quanto hai detto che è abbandonato? Tre anni. Clancy, filma questo. Ottimo inserto. Quindi questi contadinotti scompaiono? I Baker non dei contadinotti. Jack e Marguerite Baker. Gente tranquilla, non arretrata. Girano brutte voci sul figlio, Lucas. La pecora nera. Ah, merda! Sapevo di dovermi mettere le altre. Oh, merda. E sono vaccinato. Comunque, è un gran bello sfondo. Andre, che dici? Andre? Andre! Andre! Ehi, Clancy, hai visto Andre? Dov'è? Oh, cazzo, non posso crederci. Non lavorerò mai più con lui. Alla fine, i produttori vanno e vengono. Ma un buon cameraman come te? Resta vicino. Cos'è stato? Cos'è stato? Sentito? Andre! Dov'è cazzo è? Andre, dove sei? Che diavolo? E' un cazzo di scherzo. Facciamo così. Troviamo Andre e poi ce ne andiamo. Fa un culo lo show. Prima tu. Riprendimi tipo eroe mentre scendo. Vabbè, allora, vai pure. Che cosa vedi? Che cos'è? Che cos'è? No!